Potrebbero iniziare già a partire da lunedì, lavori per ripristinare l'intera area a ridosso del depuratore di contrada a Tavola Grande a Capodorlando, dove l'erosione del mare ha danneggiato un tratto della condotta fognaria provocando lo sversamento in mare di liquami. L'amministrazione comunale infatti ha deciso di accelerare i tempi procedendo su due diversi fronti che potrebbero unirsi tra qualche settimana. Per mettere in sicurezza la rete fognaria, quella idrica e quella telefonica che passano proprio sotto la sede stradale danneggiata dal mare e che arriva al depuratore, già da oltre un anno si pensa alla costruzione di un muro a palancole, simile a quello che ha resistito le mareggiate a poca distanza da quello attuale. Per costruirlo però servono circa 900.000 euro che il Comune ha trovato permutando l'ex ufficio acquedotto ubicato sulla salita per il santuario e dilazionando su cinque annalità il resto. L'impresa di Agrigento che si era giudicato il bando però ha dato forfè e così il Comune ha revocato la gara e l'ha segnata adesso alla seconda classificata, una ditta del catanese che proprio oggi ha incontrato il vice sindaco al doleggio per capire i dettagli dell'operazione. Con ogni probabilità già lunedì i lavori inizieranno con una segnazione provvisoria della gara e con la sistemazione della condotta fognaria danneggiata, ma immediatamente si passerà alla costruzione del muro a protezione di tutti i sottoservizi, della strada che porta al depuratore e dell'elipista ultimata soltanto da qualche settimana.